La famiglia Whiskers vive in un territorio di 3 km quadrati, nella provincia del Capo Settentrionale, in Sudafrica, scavandovi miriadi di tane e cunicoli. Lotte cruente per il territorio contro bande rivali! E attacchi di serpenti dal morso, estremamente pericoloso! Dopo aver flirtato con un maschio di un altro gruppo, sembra che Mozart abbia dato alla luce i suoi primi piccoli. Questo implica altre bocche da sfamare e Flower non ne è affatto contenta. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!